Musica e rispetto per l'ambiente, alcuni dei temi al centro delle iniziative in programma a Viareggio. Musica Musica L'estate è alle porte, il centro va con le stagioni, in estate, a Viareggio, si sta all'aria aperta, si va al mare, pertanto, più carichi che mai, ci vediamo a settembre, con tante attività. Per il corpo e per l'anima, il centro, una grande famiglia.